Ciao e benvenuto in un nuovo video di Finance Drip. Oggi parliamo di BTP valore. Cosa sono, come funzionano, quali sono le differenze con i normali BTP. Inoltre ti daremo informazioni utili non solo per le prossime emissioni di BTP valore ma in generale. Online di persona potresti esserti imbattuto nei promotori finanziari delle banche che in molti casi demonizzano questo strumento. In fin dei conti non ha costi di gestione a carico del risparmiatore a favore della banca. Inoltre ha un rendimento che può facilmente superare molti fondi attivi facendo sfigurare l'istituto. In questo video cercheremo di fare un'analisi obiettiva di questo strumento di risparmio che non è perfetto ma sicuramente ha delle caratteristiche interessanti da considerare. I BTP valore sono titoli di Stato italiani al pari dei BTP, acronimo di buoni del tesoro poliennali. Emettere BTP è uno dei modi con cui si finanzia lo Stato italiano, obbligandosi a restituire il prestito tramite pagamenti cedolari periodici e il rimborso alla scadenza. La principale differenza con i bot buoni ordinari del tesoro è che questi ultimi hanno delle scadenze molto brevi. I BTP vengono emessi invece con scadenze spesso superiori ai 4 anni. È comune quindi che i BTP rendano più dei bot in quanto restituiranno il capitale più in là nel tempo. I BTP, chiamiamoli standard, sono quelli a tasso fisso ovvero che pagano cedole fisse regolari. Ad esempio questo BTP paga un tasso fisso del 3% anno. Questo si capisce anche dalla dicitura TF nel nome che sta per tasso fisso. AG sta per agosto, 29 l'anno di scadenza ed EUR è la valuta in cui è scambiato. Spesso i titoli di stato sono molto facili da capire, soprattutto quelli a tasso fisso. I BTP valore hanno anche loro cedole prestabilite, ma a differenza di tasso fisso che le hanno uguali dall'inizio alla fine, i BTP valore le hanno più basse i primi anni e più alti gli anni successivi. Possono anche essere definite obbligazioni step up, ovvero con cedola crescente. Come per i normali BTP l'emissione è a 100, in fase di collocamento sono esenti da commissioni, vengono venduti in lotti da 1000, la tassazione è agevolata al 12,5% e il rischio è quello del default dell'Italia. Come altri BTP hanno un piccolo premio fidelità se li acquisti in emissione e li porti a scadenza. Non è così grande da fare la differenza, ma sicuramente fa piacere. Riassumendo, sono dei BTP con cedole prima più basse e poi più alte. Questa particolarità ha tutta una serie di conseguenze su come un investitore possa percepire o trattare il titolo. Dal punto di vista del reinvestimento delle cedole è inferiore normale BTP. Questo perché in finanza i soldi ricevuti prima valgono di più di quelli ricevuti più in là nel tempo, in quanto li puoi reinvestire da subito ed ottenere un maggiore interesse composto. Secondariamente un BTP a tasso fisso uguale dall'inizio alla fine ti permette di pianificare ad esempio un piano di accumulo con le cedole in modo più pratico. Tuttavia una differenza così piccola e ravvicinata nel tempo non fa molta differenza in termini di inflazione e accumulo del rendimento, per cui per molti è trascurabile. D'altro canto, dal momento in cui la cedola aumenta, questo genere di BTP sarà particolarmente interessante rispetto ai concorrenti. Immaginati di trovarti davanti un BTP valore con cedole per 3 anni al 2% e per 3 anni al 4% contro un BTP durata 6 anni con cedole al 3%. Se comprate in questo momento avrebbero un rendimento simile a scadenza, ma cosa succederebbe tra 3 anni? Entrambi avrebbero solo più 3 anni alla scadenza, ma il BTP valore pagherà cedole del 4, l'altro del 3. Di conseguenza il BTP valore avrà una quotazione più elevata, permettendo all'investitore di vendere eventualmente con maggior profitto oppure controbilanciando più efficacemente eventuali crolli azionari con un maggiore effetto di stabilizzazione del portafoglio. La maggior parte degli investitori in BTP valore li compra per portarli a scadenza e a questo scopo sono sicuramente strumenti interessanti. Molto intelligentemente i BTP valore emessi ad oggi hanno una durata intermedia, un orizzonte temporale estremamente versatile e adatto a molti risparmiatori. Inoltre vengono emessi con un rendimento simile o leggermente superiore ai BTP già in circolazione al fine di fargli concorrenza. In sintesi i BTP valore sono un buon titolo di stato italiano con un rendimento simile o leggermente superiore ai normali BTP e gli stessi vantaggi fiscali. Possono fornire maggiore stabilità al portafoglio con l'avvicinarsi della scadenza e le cedole crescenti ne incentivano fortemente l'acquisto buy and hold. Ma quali sono i contro? I BTP valore vengono spesso criticati per essere rivolti esclusivamente agli investitori retail, ovvero le persone comuni. Grandi fondi, istituzioni e società di investimento non possono investire in questi titoli. Ma perché hanno investitori retail dovrebbe interessarci qualcosa? In teoria se l'Italia avesse problemi economici la BCE o l'Europa potrebbero intervenire in soccorso come fatto per la Grecia. Tuttavia questo non elimina la necessità di dover intervenire sul debito pubblico. In caso di necessità per lo stato italiano sarà molto più facile tagliare i rendimenti e BTP valore perché posseduti solo da cittadini comuni piuttosto che gli altri BTP per i quali insorgerebbero stati e società con un enorme potere contrattuale creando tensioni internazionali difficili da gestire ed eventualmente scenari di estrema volatilità sul debito. Questo rende BTP valore un possibile panic button. Al di là di scenari estremamente negativi e non troppo probabili per lo stato è positivo che il proprio debito venga posseduto dai propri cittadini in quanto gli interessi che dovrà pagare su tale debito verranno restituiti alla popolazione che ci pagherà le imposte e li utilizzerà per spendere per lo più in Italia generando ulteriori introiti per l'erario. Oltre che essere più efficiente per le casse dello stato vendere debito agli italiani aiuta a rendersi meno dipendenti dai compratori stranieri. Nel caso specifico dell'Italia attori importanti come la BCE detengono molto debito pubblico e se riducessero l'acquisto di BTP sarebbe problematico trovare compratori sostitutivi. Lo stato italiano pur di attrarre compratori potrebbe essere costretto ad aumentare gli interessi peggiorando la situazione debitoria. Ricordo infatti che la BCE è uno dei principali compratori di debito pubblico. Tuttavia nei prossimi anni ridurrà fortemente l'acquisto del debito italiano se non addirittura lo rimetterà a mercato. Questo incrementa notevolmente la spinta del governo a cercare nuovi compratori di debito. Inoltre vendere BTP valore è molto più praticabile di un eventuale patrimoniale. Mossa che sarebbe estremamente impopolare. Gli italiani sono notoriamente un popolo di risparmiatori. Il governo lo sa e cerca di sfruttarne i risparmi per finanziarsi. Non è un segreto, è una strategia nota. Ti sembrerà strano ma all'estero i risparmiatori non amano i BTP quanto noi. Anzi spesso il nostro paese è visto come particolarmente rischioso per via dell'elevato indebitamento. Non è un caso che l'Italia abbia un rating di BBB inferiore a molti stati europei comprese nazioni appartenenti all'ex blocco sovietico. Il debito dello stato italiano è tra i più alti d'Europa secondo solo alla Grecia. Una delle regole per entrare nell'Unione Europea secondo trattato di Maastricht del 92 è che il paese richiedente abbia un debito non superiore al 60% del PIL. All'epoca l'Italia fu esentata con la promessa di migliorare la situazione per raggiungere questo obiettivo in futuro e ad oggi il debito ammonta quasi il 140% del PIL, oltre il doppio di quelli che sarebbero i limiti per meritare di far parte dell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo bisognerebbe accrescere la produttività o ridurre il debito. Delle riforme in tal senso sono state fatte ma complici anche eventi esterni come la pandemia siamo ben lontani dall'obiettivo. Come comportarsi quindi? I BTP valore sono consigliabili per tutti quegli investitori che già normalmente comprerebbero BTP. Il rischio di default dell'Italia è sì remoto ma non è certo aggirabile acquistando BTP normale anziché BTP valore. Come al solito è necessario diversificare per emittente. Avere 10 BTP diversi non riduce il rischio Italia. Rischio che persiste anche se hai BTP a fianchi azioni di aziende italiane che sono comunque suscettibili al rischio sistemico di eventuali crisi del paese. Se il tuo reddito arriva tutto da attività che si svolgono in Italia se ricevi una pensione statale se hai una casa di proprietà considera che potresti essere coinvolto negativamente in tutti questi ambiti se l'economia italiana andasse male. Sicuramente l'Italia è un paese importante all'interno dell'Unione Europea e nel mondo tuttavia non è necessariamente il miglior posto dove investire né l'unico da cui puoi trarre rendimenti interessanti. Siccome per l'entrata è più difficile è importante diversificare a livello internazionale almeno i propri investimenti per ridurre i rischi. Considerando quindi sia il tuo attuale portafoglio che la tua situazione di vita se reputi che i BTP possano fare al caso tuo i BTP valore sono sicuramente uno strumento da prendere in considerazione. Il buon rendimento unito alla tassazione agevolata e la decorrelazione con l'azionario li rende un buon titolo di stato da avere in portafoglio quindi benvenuti BTP valore in portafogli a medio e lungo termine purché non siano già pieni di BTP. In quel caso potrebbe essere consigliabile virare su altri emittenti. Se desideri un esempio pratico di asset allocation che preveda l'utilizzo di titoli di stato di nazioni diverse trovi in descrizione l'ultimo video che abbiamo fatto con Bowman sulla scaletta di obbligazioni. Ma come si compra in BTP valore? Quando sono in fase di collocamento puoi acquistarli presso le maggiori banche italiane e directa sim solitamente senza alcun costo di transazione. Dopodiché li troverai su borsa italiana segmento MOT come le altre obbligazioni. Siamo arrivati alla fine spero che il video ti sia piaciuto e ti abbia fornito informazioni utili a capire non solo la prossima emissione di BTP valore ma in generale come funziona lo strumento e come trarne beneficio. Ti invitiamo a lasciare un like e iscriverti al canale. Alla prossima!